buongiorno lettori oggi abbiamo un perché leggere molto speciale infatti io e samantha siamo qua per chiacchierare di un'autrice quindi non soltanto di un'opera ma ben di tre libri che stanno facendo molto parlare di sé in questi ultimi anni il nome di valerie perren è ormai in tutte le classifiche ed è però un nome che ha iniziato a far parlare di sé in Francia già qualche anno fa in Italia è arrivata un po' dopo allora noi oggi abbiamo pensato con questa chiacchierata di riflettere su questa autrice che piace molto a entrambe e provare a ragionare sulle ragioni di questo successo editoriale che a nostro parere è anche un successo poi a livello critica di critica di critica letteraria perché questi romanzi hanno effettivamente dei meriti che vanno oltre la mera trama di che cosa parleremo ve li faccio anche vedere allora abbiamo il quaderno dell'amore perduto che è il primo libro scritto da valerie perren nel 2015 in Italia è arrivato un po' dopo anche perché è uno di quei casi in cui il successo è proprio arrivato dopo il suo romanzo più famoso cioè cambiare l'acqua ai fiori che è arrivato in Italia invece nel 2019 in edizione originale l'anno precedente due libri due traduzioni differenti due editori differenti allora con il interno dell'amore perduto siamo per editrice nord con la traduzione di giuseppe maugeri mentre con cambiare l'acqua ai fiori siamo con la casa editrice e ho e con la traduzione di alberto bracci testa secca l'ultimo romanzo di cui parleremo è anche il caso editoriale più recente successo conclamato uscito il 28 di giugno di quest'anno e schizzato letteralmente in cima alle classifiche italiane tre sempre per la casa editrice e ho e sempre per la traduzione di alberto bracci testa secca tre libri tre libri effettivamente voluminosi tre libri che come vedremo non vi racconteremo nei dettagli ma attraverseremo parlando delle tematiche più frequenti e della loro storia editoriale due parole forse forse vale la pena anche di dire su questa autrice che dici Samantha sì intanto saluto anche i nostri lettori è sempre bello insomma ritrovarsi e sì è un'autrice particolarmente interessante lei nasce come fotografa di scena quindi per anni insomma ha fotografato in un mondo che non è per niente semplice tra teatro cinema e probabilmente proprio per questa sua particolarità saper cogliere con l'obiettivo le sfumature le caratteristiche degli attori che si trovava davanti poi è riuscita così bene a trasmettere ai suoi protagonisti ai suoi personaggi queste varie sfumature caratteriali che la rendono poi un'autrice unica la perren tra l'altro ha negli ultimi anni si è concentrata più sulla sua vita privata quindi abbandonando poi questa vita si è rifugiata in una piccola casa in campagna da dove scrive è una appassionata non solo della campagna ma proprio anche della natura in particolare degli animali ha adottato diversi ehm gatti eh e si occupa anche insomma di cagnolini di di cavalli e addirittura in una diretta che ho seguito tempo fa e la la sua diciamo preoccupazione è stata quella di invitare quanti partecipassero a questa diretta a mh fornire poi delle donazioni per questo piccolo rifugio per animali quindi proprio è un attivista una volontaria lei stessa presta mh e non a caso poi forse nell'ultimo dei suoi libri ehm una delle delle protagoniste fa lo stesso presta appunto eh diciamo in prima persona aiuto all'interno di questo rifugio è una mh autrice che si spende tantissimo per i suoi personaggi per i suoi libri dice proprio che lei sente la fatica di scrivere si sente quasi svuotata alla fine poi di di ogni opera perché mh ha ben chiaro quanto sia importante curare ogni minimo dettaglio dell'opera tutte queste informazioni appunto le ho ricavate da una direttamente da una da una diretta dove ha partecipato è stata davvero generosa e ha raccontato molto di sé ecco vedremo tra l'altro che alcuni di queste caratteristiche autobiografiche che torneranno effettivamente anche nei romanzi per quanto coperte ovviamente da altri nomi protette insomma dalla fantasia stessa dell'autrice allora giusto per dire due parole così poi partiamo so già che mi sto pentendo di quello che sto per fare ma ci provo allora di che cosa parlano questi libri allora guardate io vi dico solo una cosa e samantha credo che converrà sono dei romanzi pieni di storie quindi provare a riassumerli è già di per sé un fallimento io vi dico proprio solo due cose allora con il quaderno dell'amore perduto siamo in un paesino francese questa è una costante di cui poi parleremo e la protagonista molto giovane si trova a lavorare in una casa di riposo questa è l'occasione per una serie di incontri scontri sentimentali esistenziali non solo che metteranno un po in dubbio tutto il suo percorso su chi è chi vuole essere banalizziamo samantha perdonami ma come facciamo con cambiare l'acqua e i fiori altro paesino qua abbiamo una singolare guardiana di cimitero che è solita raccogliere le storie di coloro che non ci sono più della cerimonia funebre con cui vengono congedati dai loro parenti e ecco a con sé un passato molto difficile con cui fare i racconti a cui si somma un presente con delle nuove prospettive di vita che noi dobbiamo capire se riuscirà o non riuscirà a intraprendere l'ultimo ecco tre si sofferma sulla storia di una grande amicizia che attraversa gli anni 80 del novecento fino al 2003 e poi si interrompe per 14 anni non sappiamo il perché quindi questo è un po il primo mistero a questo si sommano le vite dei tre ecco da qui il titolo dei tre amici che hanno proseguito su binari molto differenti gli uni dagli altri e abbiamo anche qui un mistero da risolvere ecco allora vedete che proprio schematizzando forse fin troppo abbiamo da un lato la vicenda dei singoli personaggi abbiamo l'amore che torna abbiamo l'amicizia abbiamo molti altri temi di cui adesso proviamo a fare un po un così una chiacchierata intanto però Samantha partirei da una domanda che forse ci permette già di entrare un po sui romanzi come li abbiamo scoperti perché siamo arrivate a queste letture in modi molto diversi parti pure tu sì io ricordo quando arrivò in redazione la proposta dell'editore per cambiare l'acqua e i fiori che sia il titolo in realtà anche un po la trama se poi di trama leggendo la per re noi possiamo mai parlare sia insomma come dire anche la mole perché tante pagine arrivando in redazione come proposta estiva molti di noi non erano tanto convinti io che amo i luoghi dell'eterno riposo non perché sono una gotica ma perché mi piace proprio passeggiare e scoprire i vari cimiteri o questa voglio dire questa mania invece pensavo potesse essere interessante proprio perché immaginavo da quelle poche righe di presentazione che la casa editrice aveva inviato che potesse essere interessante coniugare una protagonista molto vitale come violette con un luogo così spettrale almeno apparentemente come il cimitero quindi questo meccanismo già mi intrigava parecchio e così è nato l'amore per cambiare l'acqua e i fiori io l'ho portato tra l'altro in valigia questo libro pesantissimo e ricordo che invece non me ne sono mai più staccata da quando l'ho iniziato in spiaggia non c'era altro che io volessi fare che non leggere cambiare l'acqua e i fiori quindi non sono poi non sono pesate diciamo le pagine che sono tante ma è volato via e credo che questa cosa io l'abbia messa in evidenza anche nella recensione quindi il primo incontro con la per per me è avvenuto diciamo per caso per una fortuita coincidenza ma credo che ancora adesso i lettori vadano a sbirciare la la recensione che poi proprio per un'altra fortuita coincidenza mi ritrovavo in alcuni dei luoghi descritti nel romanzo proprio in quell'estate e sono andata alla ricerca di soprattutto il luogo di vacanza dove violette passa parte diciamo della sua vicenda bellissimo tra l'altro appunto anzi mi permetto di confermare che è una delle recensioni più lette dall'inizio di critica letteraria e ormai devo dire dopo tutti questi anni dopo 16 anni hai un primato mica da ridere ecco ecco io invece su cambiare l'acqua e i fiori sono arrivata molto tardi cioè io avevo letto con grande curiosità la tua recensione che tra l'altro è stata fatta in tempi non sospetti perché ancora non era un best seller ecco perché diciamolo questo libro ha avuto un successo inatteso proprio grazie al passaparola dei lettori poi ha vinto dei premi ha vinto delle altre cose però è stato proprio il passaparola innescare il tutto io poi ho avuto un po quella specie di scetticismo tipico di quando siamo davanti al caso editoriale al best seller di cui tutti parlano cioè una specie di rifiuto l'avevi recensita tu io all'inizio ho chiuso baracca e un attimo ho detto ok va bene fatto in realtà ci sono tornata a quest'anno quindi per me la perrena è arrivata tardi in occasione dell'uscita di tre ho pensato di ascoltare gli audiolibri dei libri precedenti e lì è partito l'amore sono audiolibri lunghi comunque perché potete immaginare cioè stiamo parlando di opere molto corpose eccetera eppure concordo su quello che è successo a te amore a prima vista desiderio di ascoltare l'audiolibro in qualsiasi situazione e effettivamente non è pesato per nulla il tempo di ascolto mentre per il quaderno dell'amore perduto siamo arrivati dopo giusto per il quaderno dell'amore perduto ovviamente io ecco era un po scettica devo dire su questo secondo romanzo che in realtà poi il primo perché di solito quando amo tantissimo un'autrice poi mi delude nei insomma man mano qualcosa si perde no in realtà poi anche la dinamica per cui questo era il primo romanzo anche se arrivava in italia dopo mi incuriosiva ma devo essere sincero nulla togliere alla bellissima traduzione che ne fa credo giuseppe maugeri il quaderno dell'amore perduto come titolo non mi intrigava tantissimo ho amato forse più e questa cosa me l'ha fatta notare una mia collega che è un'insegnante di francese i dimenticati della domenica che è appunto il titolo originale quando ho capito qual era la tematica perché ho detto eh sarà sempre la solita ci sarà sempre un protagonista forte e poi tutta la vicenda che ruota intorno era un po scettica devo dire la verità in realtà è completamente simile ma anche completamente diverso perché la perenne pure in questa sua circolarità ne converrai con me gloria riesce sempre a tirare fuori qualcosa di inaspettato nel all'interno dei suoi romanzi e quindi mi è piaciuto tanto anche se e forse anche in questo sei d'accordo tre è quello che finora mi sembra più a fuoco dei tre romanzi appunto letti sì concordo perché effettivamente tre è quello anche più equilibrato cioè avremo modo di parlarne dopo eh si tratta sempre di storie chiuse nelle storie che è una cosa bellissima ma è anche estremamente difficile da portare avanti perché basta poco a mh insomma creare un po di caos nel in tutta la macro la macro dimensione diciamo del libro per cui tre è quello che forse pur nella sua nel suo intrigo è più lineare è più trasparente ecco per cui anche i piani diversi cronologici vengono seguiti dai lettori senza grandi difficoltà ecco io ho avuto l'onore di leggere tre in anteprima per un articolo che ho scritto sul libraio e quindi devo dire che ho avuto proprio il desiderio spasmodico di parlarne quando non potevo ancora farlo proprio perché ho ritrovato alcuni dei temi di cui tra poco parliamo ma li ho ritrovati forse più maturi forse a un altro livello anche se devo dire che il fascino degli altri due romanzi resta inattaccato cioè anch'io preferito tre però forse l'ho preferito perché ho letto anzi ascoltato prima gli altri due non lo so che dici sì credo che in qualche modo questa autrice crei una sorta di aspettativa non delusa in questo caso quindi tu sai già quali sono le dinamiche stilistiche e che operano all'interno del della dei suoi romanzi però stai lì col fiato sospeso ad aspettare con cosa ti stupirà e riesce sempre a farlo quindi questa è forse un po anche la fortuna e di questa perché poi dovremmo anche indagarci del perché di tutta questa sua notorietà che poi è dovuta in realtà un passaparola perché come ben dicevi quando io ho letto cambiare l'acqua e i fiori la perrenna era una semi sconosciuta in italia quando poi mi sono resa conto che l'anno seguente e ancora adesso se si va a guardare le classifiche fino a questa domenica le classifiche eh dei degli inserti letterari la perrenne è stabile in prima posizione sempre con con cambiare l'acqua e i fiori allora dovremmo anche indagarci mh da sul perché di tutto questo successo letterario meritatissimo secondo me. Assolutamente d'accordo. Eh guarda forse uno dei possibili motivi è anche la sua scelta di parlare di famiglia da un punto di vista insolito perché questi romanzi hanno tutti dentro questo tema fortissimo che è quello di una famiglia ma una famiglia non convenzionale una famiglia che spesso è disgregata in cui bisogna dire che almeno uno dei protagonisti si trova ad avere una situazione insolita cioè genitori assenti o genitori morti e al contrario delle figure di nonni estremamente positive. Adesso mi viene in mente così su due piedi proprio in tre una dei tre protagonisti Nina che ha questo nonno postino che è un personaggio forse tra quelli che ho amato di più nei romanzi di perrenne perché ha una dolce fermezza nel crescere la nipotina nell'insegnarle a stare al mondo ma anche nell'insegnarle ad esempio il rispetto delle cose altrui perché Nina è molto attratta dalle storie altro tema insomma che attraversa i libri e dalle storie degli altri quindi si permette di aprire spesso la posta del nonno ecco questa è proprio una costante anche dove le famiglie sembrano più canoniche ad esempio per quanto accade nell'altro nel caso del uno degli altri protagonisti di tre etienne una classica famiglia con i due genitori e tre figli in realtà ci si rende conto che per questo ragazzo molto difficile ottenere l'ammirazione dei genitori quindi si trova in una situazione di disagio rispetto agli altri due fratelli oppure ad esempio quali famiglie ti hanno coinvolta di più nella lettura ma io devo dire che mi piace tantissimo questo meccanismo che crea la scrittrice che non è mai di delusione cioè seppur i nostri protagonisti hanno un passato deludente che è ovviamente determinato da queste famiglie disfunzionali la maggior parte di queste famiglie sono disfunzionali il protagonista in sé accoglie un germe che fa maturare e che un seme che lo fa diventare poi importante che lo fa maturare che non lo rende mai perduto ecco questa dinamica si viene da un passato difficile sempre da un cioè è difficile affermarsi nel mondo ed è una cosa che la perren mette in evidenza sempre perché c'è sempre un passato di dolore di appunto mancanza i nostri protagonisti l'ho già scritto credo in qualcuna delle recensioni che ho fatto della perren si affermano proprio per mancanza non perché hanno qualcosa di forte che li spinge ad andare avanti ma proprio perché questa cosa gli manca costantemente quindi questa assenza è un po' il motore che fa andare avanti i protagonisti e li fa diventare qualcos'altro esatto qualcos'altro è anch'io confermo proprio quello che dicevi l'idea che si può partire svantaggiati ma questo non implica uno svantaggio per la vita adulta cioè la formazione che a volte coinvolge i personaggi di perren è una formazione difficile che parte effettivamente con qualche difficoltà in più però però li porta poi a essere chi sono forse l'identità passa anche attraverso questo e anche forse le famiglie che arrivano a formare perché in cambiare l'acqua i fiori il tentativo di della protagonista violette di esplicitare se stessa nel matrimonio in realtà anche qua è un tentativo molto particolare adesso non vogliamo fare spoiler in questo in questo video però chiaramente lo vedrete ecco leggendo è proprio chiaro come philippo il marito non sia la risposta non può esserlo perché troppo limitato e limitante forse e anche questa è una cosa che mi affascina cioè ci sono spesso personaggi che entro la coppia si sentono limitati mentre altri adesso non so se pensiamo agli stessi trovano una loro piena realizzazione e sono forse quelli che appartengono di più al campo del ricordo ci sono amori grandissimi raccontati in questi romanzi ma sono forse non gli amori che vengono vissuti nel presente ma gli amori che vengono ripresi nei ricordi nei memoir nelle lettere non so che dici sì hai benissimo detto tu e tra l'altro ho iluso la tua domanda di prima ma rispondo adesso e dico che per esempio io i rapporti familiari che preferisco all'interno dei tre romanzi sono quelli che si intrecciano tra il protagonista e le figure secondarie quindi adoro per esempio il rapporto che c'è nel quaderno dell'amore perduto tra la protagonista giustine anzi non tra la protagonista tra elen la l'anziana che poi è un po di cui poi giustine sarà l'alter ego no in qualche modo tra elen e il nipote ecco questo rapporto fortissimo che sembra quasi lì nello sfondo lo trovo bellissimo quindi nonno e nipote molto bello nonna e nipote in cambiare l'acqua e i fiori mi piace tantissimo il fatto che violette abbia attorno a sé delle figure assolutamente marginali che sono gli addetti alle pompe funebri ma che sono la sua vera famiglia si prendono cura in qualche modo di questa donna che come dicevi tu non ha trovato le risposte all'amore all'interno di un matrimonio e nell'ultimo in tre è ovviamente il fatto che ci sia questa amicizia forte tra gli tre protagonisti è già un diciamo legame nuovo ma mi piace tantissimo anche il rapporto che hanno i due fratelli e quindi etienne la sorella che è lui e che sono molto legati un rapporto insomma che che avrà degli sviluppi nella storia importante anche se all'inizio è praticamente quasi assente noi comprendiamo dopo chi è la sorella di etienne quindi questo crea è ancora una volta il tema delle radici cioè che non si sviluppano subito in noi come penso tanto anche al tema della partenza no che è un po qui metaforico nei libri della perre perché quando ti allontani dalle tue origini all'inizio c'è quest'idea di non mi servono non mi interessano ho bisogno di fare altro e in realtà poi le recuperi in corsa ed è quello che avviene nei tre romanzi questo intreccio tra una parte importante della protagonista con gli elementi marginali in questo credo che il fatto di essere una fotografa di scena influisca molto quello che dicevo prima all'inizio sì assolutamente poi radici che facciamo di solito risalire anche qua realtà marginali paesini della Francia sperduti che io sono andata a cercare su google maps lo ammetto per curiosità per vedere un po' dove erano perché c'è proprio questo gusto per il microcosmo che poi forse ha anche una rispondenza nella ricerca del microcosmo sentimentale dei personaggi perché penso che anche a livello simbolico riecheggi moltissimo in queste scelte però ho apprezzato sempre molto questo cercare di indagare piccole realtà con personaggi che sono per loro stessa natura a volte per scelta a volte no marginali sono esclusi a volte addirittura dalla società o si auto escludono perché anche in tre nell'ultimo romanzo l'amicizia almeno nei primi anni che vengono raccontati è un'amicizia esclusiva più volte eh si vede che i tre fanno gruppo ed escludono il mondo esterno quindi c'è anche questa attenzione ma come c'è l'attenzione a ciò che è di solito marginale dimenticato quindi appunto il cimitero eh gli animali abbandonati che è un tema che evidentemente ha eh quegli echi autobiografici di cui parlavamo però si vede un po' in tutti i romanzi soprattutto cambiare l'acqua e i fiori anche qua abbiamo tanti animali che vanno che vengono i gatti che vengono ehm tenuti dalla da violette eh e nell'ultimo romanzo abbiamo proprio Nina che arriverà a occuparsi di animali abbandonati di un rifugio per animali quindi anche questi temi fanno tutti parte di un'idea di marginalità da un lato e di ricerca delle proprie radici a cui tornare e che trovo interessante anche perché ci porta a parlare di un altro tema molto presente cioè quello di una umanità espansa di un'attenzione all'altro senza pregiudizi senza preconcetti tu parlavi prima del rapporto tra Violette la protagonista di cambiare l'acqua e i fiori e i tre personaggi delle pompe funebri che sono ricordati attraverso i loro pseudonimi eccetera anche questo è un esempio di attenzione all'altro ma come l'attenzione a chiunque arrivi al cimitero ad esempio e così in tre abbiamo l'attenzione a chiunque bussi alla porta per ad esempio appunto occuparsi di un cane abbandonato e nel quaderno dell'amore perduto dei poveri anziani abbandonati appunto quelli che i dimenticati della domenica non vengono mai insomma a incontrare i loro parenti ti piace questo tema anche tu ci intravedi questa attenzione all'altro? Sì c'è un'attenzione all'altro e potremmo dire che finalmente la letteratura francese con la perrenne ha uno spostamento che è molto tipico della letteratura americana sempre molto attenta alle periferie ma quasi mai della letteratura francese per cui il luogo d'eccellenza in cui avvengono sono le grandi città in particolare Parigi quindi la perrenne è un po' l'autrice della marginalità e delle periferie ecco forse anche il grande successo no ci dimostra che un po' un fenomeno che forse notiamo ultimamente anche in tantissimi scrittori italiani no? Quindi insomma tu sei un'esperta non ne citerò perché adesso stiamo parlando della perrenne però Borgo Sud insomma anche Cognetti ci mostrano come le realtà periferiche hanno il loro centro in una esigenza di ritrovare l'uomo e il suo centro mentre prima l'uomo si affermava nelle grandi città e questo è anche un sintomo di intelligenza della letteratura che coglie in anticipo quelli che sono poi diciamo i nostri bisogni no? Perché la letteratura fa anche questo anticipa a una sorta di come dire profezia della scrittura c'è in questo se poi noi ci facciamo caso anche a posteriori anticipa un'esigenza importante che è quella dell'uomo di concentrarsi più sui rapporti che valgono più verso l'altro e in questo quello che dice verissimo la perrenne si interessa all'altro lo vede non più come come dire ostacolo o addirittura come movente per far emergere il protagonista ma lo vede come parte della storia indispensabile senza questa tra virgolette marginalità non avremmo il protagonista. Sì senza contare che a me affascina molto questa sua attenzione all'altro anche perché mi sembra andare contro a certe tendenze individualistiche spinte in cui l'altro è quello con cui si entra in concorrenza che invece c'è spesso nella letteratura americana e qua abbiamo proprio una specie di osmosi noi non esistiamo senza gli altri così come la narrazione di questi libri ripeto ponderosi non esisterebbe senza gli altri che anche con il loro essere a volte solo delle comparse sono comunque degni di attenzione quindi questo poi tutta una serie di ricadute anche a livello di scelte stilistiche di cui parleremo dopo cioè un'attenzione al dettaglio che può sembrare controcorrente con le tendenze letterarie di oggi ma che è estremamente affascinante e l'altro si esplica da un lato nell'incontro nell'incontro di persona nell'incontro reale ma dall'altro lato anche nei ricordi perché è un altro veramente macro tema importante questo dei ricordi adesso da tre ecco se mi ero segnata una frase che volevo riprendere proprio sui ricordi ecco da pagina 536 noi leggiamo i ricordi sono come gli armadi prima o poi vanno svuotati di quello che c'è dentro che è una frase che io mi sono segnata perché la trovo emblematica dello scrivere di valerie perren e forse lo potremmo proprio amplificare anche per gli altri romanzi cioè i ricordi sono un motore dell'azione sono quello che può animare anche la ricerca della propria identità e torniamo ancora una volta alle radici che dici i ricordi e i luoghi dove si conservano i ricordi io e tra l'altro anche l'attenzione a non secondo me digitalizzare tutto c'è l'introduzione del quaderno dell'amore perduto che dice sono andata a comprare un quaderno da perprosto ne ho scelto uno azzurro non avevo voglia di scrivere il romanzo di elen sul computer perché intendo portarmelo oppresso nella tasca del camice ecco quello che fanno i protagonisti della perren è proprio questo portarseli addosso questi ricordi cioè il passato non va dimenticato non va forse va anche superato ma comunque non dimenticato ecco questo è quello che secondo me è uno dei motivi per cui questa scrittrice a chi ha tanto a che fare con i libri e vede l'evoluzione della letteratura piace particolarmente proprio perché lei non dimentica tantissime sono le citazioni tantissime sono anche le attenzioni è bellissimo nel cambiare l'acqua e i fiori il fatto che ogni capitolo sia un po' la descrizione che nel suo quaderno degli ospiti lei dà un epigrafe funeraria quasi a ognuno dei degli ospiti ormai andati di questo cimitero quindi è molto bello e come se le parole con cui alcuni parenti distratti avessero descritto queste persone non ci sono più non bastassero quindi dobbiamo essere anche consapevoli nel come dire nel nel raccontare in maniera positiva il sì 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 e poi in tre abbiamo anche un in raccontare in maniera positiva gli altri quindi il nostro passato ma anche il passato degli altri le parole dobbiamo porre attenzione alle parole che usiamo nella descrizione degli altri anche questo è una attenta come dire empatia verso le persone che ci circondano spesso utilizziamo male le parole per descrivere gli altri sì e anche in tre avremo modo di scoprire non diciamo come per non fare spoiler che le parole scritte le lettere hanno un ruolo importantissimo al di là della storia del postino del nonno pierre eccetera ma anche per altre ragioni cioè ci sono dei conti col passato che troveranno una risoluzione per iscritto in alcuni casi e anche questa è una scelta appunto che è in profondo contatto con tutte le altre di cui abbiamo parlato con la decisione di tratteggiare i ricordi di fermarli su carta all'interno del quaderno dell'amore e anche ad esempio in cambiare l'acqua i fiori le parole diventano fondamentali perché la protagonista che ha difficoltà a leggere violette in realtà quando scoprirà come leggere riuscirà a innamorarsi della letteratura in particolare di un libro specifico che continuerà a leggere rileggere nel corso della sua vita in momenti anche a volte molto difficili per lei da superare e quindi viene proprio da pensare non so se è una mia idea un po forzata ma che le parole abbiano da un lato un potere salvifico dall'altro un potere catartico dall'altro ancora per perren servano in qualche modo sublimare quel che nella realtà non va quel che non c'è e a conservare quello che invece c'è stato e che merita come dicevi tu prima di essere ricordato per sempre quindi lettura e scrittura sono davvero dei temi apparentemente secondari ma che troverete se amate molto la letteratura avrete effettivamente una profonda rispondenza con i protagonisti di perren e poi forse c'è un altro macro tema di cui è molto difficile parlare e scrivere cioè il rapporto di ognuno con il dolore e la morte dici poco sì il rapporto con il dolore e la morte è sempre presente costantemente presente si affaccia quando il lettore meno se lo aspetta all'interno dei libri quindi in un momento cioè lei ci coglie quasi di sorpresa con questo dolore no perché tu non sai ma cioè stai tanto è vero che secondo me all'inizio c'è un po' una superficialità di approccio ai romanzi no perché sembrano quelle storie non so come dire banalmente amorose mi si passi il termine in cui tutto va sempre molto bene sì forse c'è stato qualcosa che non va non comprendiamo cosa lo scopriremo dopo in realtà è proprio questo trafiggerci col dolore dei protagonisti che cambia tutto e cambia tutto anche a partire da piccoli indizi tu citavi prima il rapporto della delle lettere il nonno postino con nina no e c'è proprio quel momento in cui non voglio appunto dire ma il nonno scopre quello che ha fatto nina no che è una cosa anche molto come dire adolescenziale e forse anche imperdonabile a un certo punto di vista ma anche comprensibile quello è il motore per farci vedere dietro cosa c'è dietro questo gesto no perché noi cominciamo a conoscere realmente nina dal momento in cui lei fa questa cosa imperdonabile per il nonno tutto precipita in un momento in cui non ce l'aspettiamo la stessa cosa succede negli altri due romanzi o no sì assolutamente assolutamente cioè forse non lo so ipotizzo in cambiare l'acqua i fiori un po il tema cimiteriale l'ambientazione ci fa già immaginare perché io da parte di molte amiche a cui consigliato il libro mi sono sentita rispondere che temevano che il libro fosse eccessivamente triste e secondo me è quel timore che viene quando vedi così l'ambientazione ma in realtà questo approccio al dolore saperlo raccontare anche attraversando il lutto è qualcosa di necessario cioè noi siamo alla fine in una società scusa se banalizzo che tendenzialmente punta a aprire la giovinezza fino ai 60 e 70 anni non vuole vedere la morte e fa proprio fatica a fare i conti con tutto questo altrimenti non ci spiegheremmo anche come la tecnologia stia cercando con ologrammi e quant'altro di permettere una comunicazione con i defunti per prolungare la vita vabbè ma questo ci porterebbe su altri temi interessanti ma che non hanno a che fare con terreno lei invece secondo me è un'autrice che riesce a fare i conti con quello che effettivamente c'è sempre stato cioè sì il dolore atavico che ci prende quando viene a mancare qualcuno che amiamo e anche la necessità di fare i conti con tutto questo cioè di esplorare il fondo per poi riemergere certamente cambiati certamente più autentici perché questi protagonisti non si nascondono dietro al non so dietro la quotidianità dietro a un falso star bene sanno fare i conti con le avversità della vita con la e anche con la morte effettivamente è proprio questa autenticità che mi ha colpito moltissimo ammetto poi che in qualche parte dell'audiolibro di cambiare l'acqua e i fiori ma anche dell'altro del quaderno dell'amore perduto ho accostato perché io spesso li ascolto mentre guido perché dovevo asciugare un paio di lacrime lo ammetto senza senza schermi effettivamente proprio perché ci colpisce ci sono passi che io sottolineato poi perché poi come vedete ho comprato anche i testi cioè non mi sono accontentato dell'audiolibro li ho sottolineati perché mi hanno colpito per quella specie di sincerità schiettezza autenticità che ho voluto proprio riconoscere a perrenna quindi ho anche di questo la ringrazio e devo dire non so se capita anche a te che a volte mi arrabbi un po quando leggo una certa critica che tende a banalizzare i libri di valeri perren e a ridurlo a un successo proprio solo editoriale come se fosse il marketing ad averla portata a essere prima in classifica sì tra l'altro i suoi i protagonisti provano a rifugiarsi in qualcosa non si nascondono ma provano a rifugiarsi ma noi scopriamo subito che questo rifugio è solo apparente la perren più di tantissimi altri autori e questo non è diciamo scontato scrive mettendosi dalla parte del lettore non scrive diciamo e forse è questo che tanta critica non apprezza no come se i libri dovessero essere sempre delle degli esercizi di stile del diciamo fuochi d'artificio e farci scoprire che c'è ben altro perché lo scrittore è in una posizione privilegiata io credo che ci sia tanta critica che si aspetta forse dall'autore questo in realtà io ho come dici tu provato un'empatia incredibile e mi succede raramente per questi protagonisti perché spesso noi noi leggiamo tantissimi libri e quindi stiamo molto attenti a quelle che sono no le strutture le dinamiche è ovvio che la trama è ben poca cosa per noi non siamo diciamo siamo i cosiddetti lettori forti siamo anche dall'altra parte dobbiamo scardinare un po anche mostrare il risvolto di questi libri no cercare di capire perché questo libro libro valido ecco io per la prima volta mi sono sentita una lettrice pura cioè ero lì la perrenne come se mi conoscesse cioè andava a trovare quei diciamo quei punti deboli che poi fanno scappare la lacrimuccia quindi lei ha una grande dimestichezza con eh le emozioni e questo è palese ma non non sono emozioni da libri harmony non sono emozioni preconfezionate non sono emozioni sono emozioni vere e ai suoi protagonisti non viene rispetto ai suoi personaggi non viene risparmiato nulla tutto quello che mh vivono è quello che noi viviamo questo è forse uno dei segreti del successo di questi libri sì sono d'accordo oltre al fatto che comunque se neanche andiamo a guardare rapidamente le questioni di struttura e di stile su cui appunto noi ci soffermiamo di solito anche nelle recensioni perché è imprescindibile ovviamente eh troviamo una effettiva bravura nel gestire delle storie estremamente complesse poi forse i tre romanzi non sono tutti ugualmente equilibrati nel combinare mh tutte queste storie ma secondo me è anche uno dei punti di forza di Valérie Perrenna cioè noi entriamo in un mondo anche qua io ci vedo generosità perché se noi prendiamo ognuno dei rivoli narrativi presenti in questi libri se vogliamo lei avrebbe potuto costruire un romanzo per ogni rivolo narrativo presente mentre in realtà non ha avuto paura di buttare via come direbbe probabilmente qualcuno in editoria delle storie perché le storie sgorgano dai suoi libri in maniera del tutto naturale anche questo che ha una potenza secondo me di cui dobbiamo riconoscere effettivamente proprio l'autenticità la forza il fatto che gli appartenga questa capacità fabulatoria fortissima e poi questo gioco a incastri piace o non piace ecco forse lì c'è anche uno dei motivi per cui qualcuno la esalta e qualcuno ha difficoltà allora devo dire anch'io sentendo a volte lettori a cui amici a cui ho regalato i libri di Valérie Perrenne ho trovato alcuni che ne fanno un proprio un punto di merito altri che invece considerano questa attenzione a storie nelle storie come difficoltoso da seguire e qua certamente poi andiamo a approdare anche ad altre questioni cioè le caratteristiche del lettore ideale di questi romanzi che non può essere un lettore distratto questo no se ti distrai è finita secondo me però se sei curioso di storie indubbiamente qua hai di che sfamarti te le puoi leggere rileggere e troverai sempre dei retroscena a cui non avevi badato la prima lettura che dici chi è questo lettore che può godere di questi libri non è un lettore cinematografico adesso diciamo che i lettori sono molto abituati a questo stile sintetico cinematografico dove si inquadra il nucleo drammatico dell'opera che deve essere per forza presente all'interno di di ogni di ogni romanzo no se non parliamo di romanzo mentre la perenne lo dilata nel tempo lo dilata proprio come facevano gli scrittori di una volta e lo dilata proprio nel frattempo non annoiandoci quindi distraendoci forse provando a distrarci ma devi essere come dici tu molto concentrata per leggere questi libri per non perdere il filo perché il filo c'è solo che è appunto una fotografa quindi amante della parte descrittiva oltremodo ma non in maniera cinematografica ecco questo è quello che secondo me devono capire lettori quindi il lettore ideale non è un lettore diciamo che deve essere colpito dalla velocità dal ritmo che pure è presente un suo ritmo ovviamente all'interno di ogni romanzo non deve aspettarsi subito di comprendere tutto deve avere paziente pazienza è un lettore paziente quello il lettore della perenne e non deve essere un lettore come dire prevenuto non deve pensare di aver compreso tutto come all'interno di un thriller spesso chi legge tanto i thriller no già sa più o meno dove si vuole andare a parare e quindi quando noi ci troviamo di fronte ad esempio anche se non sono questo non è questo il genere un thriller la cosa che ci colpisce è quanto riesce a tenerci col fiato sospeso ed è una cosa molto difficile ultimamente all'interno di un libro lungo lo scrittore la perenne fa questo pur non avendo una dinamica da thriller ha una dinamica di attesa quindi il lettore della perenne è un lettore paziente un lettore abituato a leggere un lettore che ama i sentimenti e non le diciamo le azioni e che ama capire il contesto secondo me si aggiungo anche che comunque una componente di mistero c'è sempre eh come dicevi tu però è un mistero che si viene dilatato per cui effettivamente eh le questioni si sciolgono ecco non abbiamo questo possiamo dire senza grossi spoiler non abbiamo dei finali aperti eh cioè i lettori di solito restano comunque soddisfatti del fatto che eh c'è una tradizionalità in questo però bisogna appazientare e effettivamente prepararci a capire che non è mai la soluzione più semplice non c'è mai una soluzione semplice forse questo perché in effetti insomma senza pontificare quale vita è semplice di conseguenza dobbiamo effettivamente avere pazienza detto questo ci sono dei dialoghi che vivacizzano moltissimo la narrazione che quindi ci permettono anche di eh comprendere i personaggi attraverso le loro parole e le loro azioni quindi anche in questo ehm anche questo voglio sottolineare cioè i lettori non si troveranno la pappa pronta cioè scusate il termine poco però rende l'idea ecco eh ma ci arriveranno da soli cioè i caratteri dei protagonisti di cui vi abbiamo parlato e poi di tutti gli altri personaggi emergono da quello che fanno quindi anche questa è una cosa che io apprezzo moltissimo e che dire ci sono poi anche alcune curiosità che rendono le opere sempre estremamente intriganti e me le dicevi tu prima se vuoi ripetercele così insomma chiudiamo in bellezza sì ho notato che la perrenne più che altro nell'edizione francese no perché poi in Italia i libri arrivano magari un anno dopo ha pubblicato sempre a distanza a distanza di tre anni perché il primo libro eh che è il quaderno l'amore per due del duemila e quindici in Francia nel duemila e diciotto eh viene pubblicato cambiare l'acqua e i fiori e nel duemila e ventuno adesso questo è eh uguale per tutti perché è uscito nello stesso momento comunque eh viene pubblicato appunto tre e quindi c'è e tra l'altro appunto questo tre si ripete addirittura nel titolo forse c'è un'intenzione della perrenna di dirci questo è eh un percorso sono arrivata alla fine alla perfezione del percorso aprirò un altro ciclo non lo sappiamo sarebbe interessante capirlo perché tre come sappiamo anche il numero della perfezione tre anche il numero dei protagonisti e mh e tra l'altro c'è anche un'altra particolarità che eh di cui senza spoilerare dirò di questo tre di questo nuovissimo romanzo che è eh questo mistero dell'io narrante mentre molto chiaro negli altri due chi è che sta raccontando la vicenda in realtà in tre lo scopriremo solo alla fine e quindi forse la perrenna ci sta mettendo alla prova ci sta dicendo che un ciclo si conclude e forse se ne aprirà un altro chi lo sa ce lo auguriamo indubbiamente tra l'altro diteci se avete letto anche voi questi tre romanzi scrivetecelo qua sotto nei commenti e se vi è piaciuto questo video ricordate di seguirci iscrivendovi al vostro al nostro canale youtube proprio con il pulsante qui sotto oppure seguendoci su instagram intanto grazie grazie samantha per la chiacchierata e alla prossima grazie a te grazie a te